Ciao, meravigliosa Queen! Benvenuta a questo nuovo allenamento! Allenamento per tonificare il tuo corpo e dimagrire, così quando ti guardi allo specchio puoi sentirti bene con te stessa! Allora, primo esercizio che faremo, aspetta, 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 ferma tutto! Se non hai ancora fatto, metti subito un like e iscriviti al canale! Io lo so che tu vieni qua, guardi il video e non sei ancora iscritta, quindi iscriviti subito al canale, lascia il tuo like e attiva le notifiche, così ogni volta che io pubblico un nuovo allenamento tu non rimarrai fuori, ok? Fallo subito! Primo esercizio della giornata sarà un affondo laterale con un'abduzione, scendo, apro, scendo, apro. Se sei principiante vai giù e torna su, vai giù e torna su. L'importante di questo esercizio è portare bene indietro i glutei, ok? E tenere più o meno allineato caviglia e ginocchia qua, non andare giù così, ok? Per non sforzare il ginocchio. Questo è l'esercizio numero uno, faremo una gamba alla volta. Fatto questo, vado qua, mi metto sulle ginocchia, abbasso i glutei, le mani più o meno all'altezza della spalla, sia come distanza che come direzione, scendo, spingo, scendo, spingo e andiamo a tonificare i tricipiti. Lo puoi fare anche se sei principiante e fermarti ogni volta che hai bisogno, ok? Fatto questo, torno su, faccio l'altra gamba e poi per concludere andremo a fare un bellissimo plank. Che facciamo questo qua? Guarda, da questa posizione, ginocchia un po' piegate, se sei principiante stai ferma qua così, se sei già allenata girati da un lato, ritorna, girati dall'altro e ritorna, ok? Sei pronta per il riscaldamento? Oh, yes! Un bel respiro su, espira, su bene, espira, bravissima, questo è l'ultimo, vai su, allunga bene, 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 mani verso il soffitto, tira, 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 allunga come se tu volessi toccare con le dita il soffitto, vai, uno, due, uno, due, su, su, su e poi laterale, guarda, allungo, 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 vai, 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 ancora, hop, 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 il bacino qua è coinvolto, eh? Vai, perfetto, stop, giro, 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 vai, uno, due, uno, così, molto bene, vai, vai, e quel sorriso, eh? Ormai lo sai già, vero? Giro qua, giri i polsi, gira, gira, vai, 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 nell'altro senso, eh? Uno, due, uno, due, brava, molto bene, ok, guarda, scendi qua un pochino, scendo, 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 vai, 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 hop, 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 e line, qui ci vuole la coordinazione, braccio e gambe insieme, otto, vai, sette, e sei, vai, cinque, così, quattro, perfetto, tre, respira, due, vai, ok, sul gineccio, su, 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 gomiti alti, eh? Vai, 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 ancora, uno, due, uno, due, molto bene, tre, due, gamba dietro, hop, 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 bravissima, ricordati che dopo mi devi raccontare com'è andato, ok? Voglio sapere, vai, 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 doppio, doppio qua, uno, due, uno, due, vai, 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 così, bravissima, hop, 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 vai, vai, facciamo un'abduzione, su, 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 braccio e gambe, si muovono, vai, uno, due, uno, due, così, perfetto, adesso solo il ginocchio qua, su, 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 braccia, gamba, vai, quattro, e tre, così, bravissima, due, vai, dall'altra parte, e, u, due, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora otto, vai, Queen, vai, quattro, tre, due, ok, fermati qua e fammi questa corsa sul posto che ormai la conosci già benissimo, vero? Tallone dietro, sollevato, muovi bene le braccia, gambe piegate e attive, girati che facciamo l'altro lato, vai, respirando, e stop, bravissima, pronta la partenza, partito, devo alzare il timer, vai, hop, scendo, hop, vai, hop, peso del corpo sui glutei, vai, e vai, ancora, vai, e forza, stop, bravissima, andiamo a fare tricipiti a terra, sei pronta? 3, 2, 1, go, scendo, su, scendi, su, vai, shh, vai, non è necessario dare una botta al gomito, quando vieni su, controlli il movimento, fuori l'aria, shh, quando vieni su, facciamo un'altra gamba, 3, 2, 1, go, vai, scendo, su, scendi, su, vai, apre, peso del corpo il più possibile sui glutei, quando scendi, ok? La versione principiante è questa qua, scendo e avvicino, scendo e avvicino, andiamo, pronta, planchetto, col giretto, vai, così, dai, che bello questo, forza, gira, torna, gira, vai, respira, hop, vai, ok, tutto da capo, primo giro, se fuè, oh, senti già come stai bene, senti il corpo, che è già tutto attivo, vero? Sono belle queste sensazioni, scendo, abduzione, scendo e apre, quando apre, piedi a martello, ginocchio, guarda avanti, vai di tricipiti, via, scendi, su, guarda come il sedere, i glutei accompagnano il movimento, non devi rimanere qua su, scendi, hop, e vai, hop, shh, e hop, shh, come vai, meravigliosa, qui o no? Go, scendo, abduzione, scendo, apro, vai, peso del corpo indietro, vogliamo sollecitare glutei, vai, shh, ok, e qui già siamo tornati al plank, per concludere questo ultimo esercizio del secondo giro, vai, respira, hop, ehi, hop, vai, hop, ehi, hop, perfetta, passi in fretta però, vero? respira, vai, scendo, apro, scendo, apro, vai, scendi, sorridi che questo è già l'ultimo giro, eh, che magia, vai, hop, stop, mamma mia, linee, come passa in fretta, è vero? quindi promettimi che da ora in poi smetterai di dire, oh, non faccio ginnastica perché non ho tempo, eh, no, se non fai ginnastica devi raccontarti un'altra storia perché questa qua non torna più, guarda quanto poco tempo ci vuole, le mie allievi del programma del metodo ELA workout in 20 minuti fanno un allenamento pazzesco, questo non è un allenamento completo, è un assaggio per farti capire come puoi attivare tutto il tuo corpo in pochi minuti, sono qui per aiutarti a vedere che non esiste più la scusa del tempo, è finita, vai, fuori, giro, vai, hop, vai, qui, respirando, bravissima, stop, come stai? bravissima, puoi essere fiera di te, anche se non hai fatto un allenamento completo, questo è già un ottimo inizio, quindi complimenti e benvenuta, ginocchia in fuori, porti i taloni ai glutei, allunga le mani lontanissime in avanti, respiro, così, bravissima, fa caldo, vero? mani lontanissime in avanti, e mentre sei qua, che allunga la schiena, i glutei sono appoggiati, i talloni, no, i glutei sono appoggiati sui talloni, ce la posso fare, mentre sei in questa posizione, nota come stai bene, come hai attivato il tuo corpo, i tuoi muscoli, e questo è quello che serve per dimagrire, per tonificare, per avere più energia, dimmi la verità, adesso ti senti bene, e se notti, potresti tranquillamente fare ancora degli esercizi, vero? non ti è venuta la voglia? è quello che accade negli allenamenti di 20 minuti, devi solo iniziare, una volta che inizi, vai, respira, vai, i talloni a terra, mani a terra, vai, bravissimo, piega le ginocchia, cammina con le mani verso i piedi, lascia giù le mani, e allunga bene le gambe, testa rilassata, sempre respirando, adesso abbraccia le gambe, inspira fuori l'aria, e avvicina il petto alle cosce, vai, mantenendo le gambe tese, piega le ginocchia e vieni su, srotolando il tronco piano, piano e piano, rilassa le spalle, sei bravissima, lo sai, molto bene, se non hai ancora fatto, lascia il tuo like, iscriviti al canale creatura e attiva le notifiche, così non rimarai fuori, ok? fai la brava, allunga, avvicina le gambe, senti allungare le cosce, apri il pettorale, la coscia, qua, devi sentire allungare, apri il petto, respira, perfetto, cambia gamba, petto aperto, vai, così, bravissima, ok, passa così il braccio avanti, sguardo laterale, sempre respirando, e cambia dall'altra parte, quindi ti ricordo che per dimagrire, per tonificare tutto il tuo corpo, ti servono soli 20 minuti, 20 minuti strategici, quell'allenamento che io faccio fare nel metodo e la workout, vai a tonificare tutto il corpo ed eliminare il grasso in eccesso, e questo non avviene mentre ti stai allenando, ma quando finisce l'allenamento, cambio lato, sguardo a terra, perché? perché è un allenamento che ti fa alzare il metabolismo, quando finisce l'allenamento, il tuo fisico deve andare a recuperare la fatica che ha fatto, e devi prepararsi per l'allenamento successivo, quindi diventare più tonico, più forte, più agile, tutto questo lo fa smaltendo grasso, che magia, che magia vero, lascia le mani allungare il tratto cervecale, respira, così, perfetto, rilassa, inspira, vai, lascia cadere da un lato, e fuori, ok, su le mani, espira, vai su, e espira, questa è ultima, su bene, avvicina braccia, gambe, fai un bel inchino in avanti, e grazie mille, sei bravissima!